La guerra di posizione. Quando parliamo di Grande Guerra o Prima Guerra Mondiale, dobbiamo sicuramente ricordare la definizione guerra di posizione. Questo conflitto, infatti, viene caratterizzato da un modo di combattere in cui gli eserciti contrapposti sono sostanzialmente fermi nelle loro posizioni. In un primo tempo, però, la Germania aveva preparato una guerra molto diversa, aveva preparato una guerra di movimento che si basava sull'effetto sorpresa e prevedeva una rapidissima avanzata degli eserciti per conquistare la Francia attraverso l'invasione del Belgio e prendere Parigi e costringere quindi i francesi alla resa. In modo da anticipare qualsiasi reazione da parte degli alleati, Russia e Gran Bretagna. Le cose, però, sono andate molto diversamente rispetto a quanto prevedevano i tedeschi e lungo il fiume Marna, a qualche decina di chilometri da Parigi, i francesi riescono a fermare l'esercito tedesco e, a questo punto, sul fronte occidentale della guerra, il conflitto diventa una lunga guerra di posizione. In questo momento, da questo momento, la guerra vede un fronte pressoché immobile e, siccome nessuno dei due eserciti riesce a prevalere sull'altro, continuano le due parti a rafforzare le posizioni raggiunte. Rafforzano queste posizioni scavando delle trincee, che possiamo immaginarcele come dei corridoi scavate nella terra, all'interno dei quali poteva stare l'esercito e dal quale si sparava verso lo schieramento nemico. Queste trincee, sempre più rafforzate con il passare del tempo, fanno sì che sia sempre più difficile prevalere sull'esercito avversario. Durante tutti gli anni della guerra, quindi, questo fronte possiamo immaginarcelo come pressoché immobile. Dall'altra parte, i tedeschi devono fare conto con l'avanzata della Russia che, da est, decide di attaccare la Germania in modo da far sì che i tedeschi debbano concentrarsi su più fronti contemporaneamente. La Germania riesce a fermare nella battaglia di Tannenberg e dei laghi Masuri in Polonia, riesce a fermare i russi che però, allo stesso tempo, riescono ad avere la meglio degli austriaci un pochino più a sud in Galizia. A questo punto i due grandi imperi centrali, quello tedesco e quello austro-ungarico, se pensiamo alla geografia dell'Europa, infatti questi sono situati nella parte centrale dell'Europa, si trovano accerchiati. Da una parte, verso ovest, ci sono la Francia, aiutata dall'Inghilterra, mentre dalla parte orientale c'è l'avanzata russa. A questo punto gli inglesi cercano di attuare una nuova arma, un'arma che, diciamo, è di tipo anche economico ed è quella del blocco navale. La flotta inglese, quindi, blocca l'accesso ai porti tedeschi di tutte le navi e quindi in Germania non arrivano più via mare rifornimenti e rinforze. A questo punto la Germania è accerchiata via terra, da un lato la Francia, dall'altra parte la Russia, e via mare viene bloccata a nord dalla flotta inglese. Un'arma che usano i tedeschi in questa occasione, che viene introdotta, era nuova in quel momento, è quella del sommergibile. A questo punto i tedeschi, attraverso i sommergibili, riescono a navigare sott'acqua e a colpire le navi nemiche, in modo che questo blocco navale sia, diciamo, spezzato e in qualche modo riescono ad arrivare nei porti tedeschi i rifornimenti necessari per continuare la guerra. L'uso dei sommergibili, però, porterà a colpire non solo le navi da guerra nemiche, ma anche navi civili e commerciali di stati neutrali. Quindi questo causerà anche malcontento da parte di altri paesi che, almeno ufficialmente, non erano coinvolti nel primo conflitto mondiale.